Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Gerry Scotti, in una lunga intervista, con una sottile e pungente ironia, Scotti ripercorre anche la sua esperienza politica, l'annosa questione vitalizia, ma quello che più di tutti è il passaggio saliente dell'intervista e legato alla sua paternità. Scotti è una garanzia del piccolo schermo e questo è cosa assodata. Nel momento in cui gli viene chiesto cosa si è perso nella vita, Scotti non ha dubbi, esclamando, lo dico senza rammarico e senza lacrimocce, che mi scendono facilmente, ho perso qualcosa di mio figlio, non gli ho fatto mancare nulla, ma avrei potuto dargli di più. Adesso lavoriamo insieme e ci troviamo benissimo, mi cura anche TikTok, dove facciamo numeri pazzeschi. Oggi cerco di recuperare con i nipoti. Il rapporto padre-figlio va benissimo, ma il piccolo rimorso legato al troppo lavoro che gli ha fatto perdere dei passaggi importanti della vita di Edoardo, quello c'è, come ci sarebbe in ogni genitore.